Il salmone, un nuotatore provetto. Quando giunge il momento della riproduzione, molte specie di salmone risalgono il corso dei fiumi, affrontandone le correnti impetuose. Come riescono a sopravvivere a un viaggio così estenuante? Lungi dal farsi sopraffare dalla forza delle correnti, questi pesci le usano al loro vantaggio. Come? Riflettete. I salmoni non cercano di risalire il fiume semplicemente lottando contro l'impeto delle acque. Al contrario, risparmiano energia sfruttando i vortici che si formano quando la corrente incontra rocce, rami o altri ostacoli. Poiché tali vortici si formano alternativamente, da un lato e dall'altro dell'ostacolo, i salmoni flettono il corpo ora da una parte ora dall'altra, in modo da scivolare tra le sacche di tutto. Turbolenza. Certi pesci che si spostano in banchi sfruttano i vortici prodotti da quelli davanti a loro, di fatto nuotando nella loro scia. I pesci sono perfino in grado di approfittare della turbolenza creata dal loro stesso corpo. I ricercatori studiano la nuotata efficace del salmone nella speranza di imparare a produrre energia da acqua che si muove a bassa velocità. Di norma, gli impianti idroelettrici tradizionali generano elettricità impiegando acque che scorrono a una velocità minima di circa 5 nodi, 9,3 km orari. Ora un impianto sperimentale che utilizza le vibrazioni generate dai vortici è in grado di produrre elettricità da acqua che scorre a solo due nodi, 3,7 km orari di velocità. Il dato è promettente, dal momento che la maggior parte delle correnti acquatiche ha una velocità inferiore ai tre nodi, 5,5 km orari. La tecnologia attuale, tuttavia, è ben lontana dal livello di complessità osservato in pesci come il salmone. Il professor Michael Bernitzas, dell'Università del Michigan, ammette. Ora come ora non siamo bravi quanto i pesci. Che ne dite? La capacità del salmone di sfruttare l'energia prodotta dalla turbolenza che si genera in acqua è frutto del caso o di un progetto?